Quattro di mattina e niente Di popolazione Ma roba 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 Cronetto, cioccolato e caffè e latte Non è caffè e latte È crema di caffè Sperma stamattina Ripete nei commenti come è stato l'oreggio metteci le scappe Le scappe per non farsi male ai tassi Ci ha messo 37 secondi per te Vabbè Gelato Gelata Glata Gli uomo In realtà è male L'ho arrivato 10 minuti Però è stato tantissimo merdo Prima di notte Non mi piace I capelli malissimo Perché comunque li sono lavato ovvero secondo me E quindi No, non va bene Non c'è anche nessuno a fare bagno qua perché non c'è nessuno Ho un pezzo di legno Wow È bello che mi lasciano le piede con i giabatti Si lasse nel dallo in acqua Tipo così Per chi non ci crede oh oddio non ci cante me ne scappo questo è stato a fare il volo stai avvicinando a un bubububu scatto scatto questo è una spagna questo è diverso che li mettersi così d'acqua ragazzi stiamo avvicinando ai gabbiani orcava tocca stiamo avvicinando no stiamo avvicinando aspettate non vorate no non sto facendo non vorate tu non vorate sono bravo volati non sto fa niente non sto solo solo piano non vola no che fa parte uffa oh eh non volati mica piani a questo punto andrei a vedere che ci sta nel carretto qualcosa così che fa quasi me lo prenderei che bello si qua ci sono un laghetto oh ragazzi c'è il terzo che sta giocando questo è un tipo di casa eh questo è il nostro indigno questo è il bianetto il mio è piccolissimo quasi tu resti tu resti tu io so quella è la buca gola io so quella è la bravo stai andando stai andando? bello acquapark wow comunque devo dire che a me le piscine non mi piacciono si siamo pronti ma io non posso mettere le orecchie ma guardate qua che belli che siamo sono bellissime? se mi metti nel vino ti ammazzo e io ti ammazzo si raga tutto in piscina fatto se non so che capire di ciò mi fanno schifo scusatemi mi sto gelando adesso ma a me che fa questo così mi devo asciugare che cosa? oddio oddio che è? che è? una palla oddio mi mangio mi mangio chi c'è? una palla chi c'è? chi c'è? una palla una palla una palla oh raga ma che c'è questa palla oh pacco oh che bello vabbè raga no no l'ho comprato un euro vedete la risacca e venite a giochi poi compratelo un euro bello guardate qui qua che buio e guarda questo e guarda questo grandissimo e guarda questo wow no ok per restituire il cuore di tutti e salvare tutti i mondi ehehehe grazie oh 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 guarda che ci sta qua stiamo andando a vedere se ne ho di fare lavoro andando a vedere una passeggiata e che è? e che casino? parazione ok raga mercoledì l'agosto oggi è 3 si? l'agosto? si ok si si poi ci siamo svegliati lì alle 7.40 ci siamo andando andati e ci siamo svegliati alle 10 raga questo è troppo costo non ci siamo andando altro giorno altre volte in piscina e le vide forza le vide le vide le vide le vide l'acqua parca con la C l'acqua parca è la senza C dico AQ wow vabbè è uscito dal bagno e mi sto girando lei non mi sta là ora ci facciamo un video con un descendere dallo scivolo che io ho troppo a cuore non lo faccio però vabbè yes perchè non sei andata su quello rosso? perchè sennò rimanevo tipo nuda c'è per me andava bene le volte vedono altre persone quindi no non andava bene più c'è uno che ho fatto prima è caduto è sceso uno? praticamente ci stava uno ciccione è sceso no? io so sta lì la scala e tipo questo qua è sceso ha fatto un tsunami e poi l'ho sbattuto tutto qua e la scala poi si va a dire e che c'è la conferma? ok sta pensando stiamo aspettando che arriva un treno con me e Lorenzo e Diana che andrà a prendere le batterie sono passati già cinque treni e Lorenzo non ha fatto mai la registrazione quindi sui giorni mi riesco a prendere sto treno che fizzi se ce la farò boh andando alla mia ragazza gli fa mettere e mi fa mettere la borsa mi fa mettere sto coso la data a Lorenzo me la fa mettere raga regalino stavolta la faccio vedere la marca poi se non mi pagano le bruglie anche le batterie ci ho regalato dai e le vanno a fare delle gomme si la prima cosa ecco le gomme e il bruglie ma c'è la marca ma sulla menta? si buona buonissima è buonissima a te si vabbè non mi piace non mi piace vabbè ma ce ne ho ti dico io quando faccio il bruglie non è buona io mmm mi piace si mi piace bravo bravo si scagnava ole vede vede vai 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 un altro nuovo che dato si scagnava Vai, vota giù oh mamma mia Giovediiiiiii Secondo con la relazione ci siamo fete e mezza e poi siamo tantanezani Se io mi svegliate le 10, yeah Non mi ha di metter i costumi Ti fa male? abbracciati perché fa casa oggi il mare e mostro che non ci sono nessuna tele però è di pranzo, comunque sta pochissimo l'agente, io sto cercando di vedere abbracciarmi ma... non lo so che mi regali a Puglia? ah da poco quello tuo ti regalo una sponsorizzazione su Instagram va bene? me la voglio grazie è io messo a Puglia a Puglia che l'ha fatta con una piccata la stessa la prende? si si quindi l'ha preso tutto questo ho preso quel piettino che è piccata la stessa grazie una gola A Puglia le guaglie a Puglia sta via che è vero a Puglia pss 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 Pii Pii bello il codino eh pii pii bello attenzione allora dove sta però l'acca attivano la luce non fate la casa non fate la casa benissimo scrivete nei commenti qua sotto e iscrivetevi al canale qua e vai e bravi grazie bella ragazzi sono le nove di mattina per la prima volta grazie a lei ci sono finta di questo e siamo riusciti a stare qua alle otto e mezza mamma mia io ovviamente ho fatto storia perché c'è un sonno però dai sono, non mi sono sono ragazzi ma è che la boba passa come fa la gente perché sono tutti dormiti sono tutti più tardi, se sia il sole forse piove perché hanno detto che porta maltempo chissà 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 e si comunque siamo a venerdì primo settembre, oh mio dio la depressione ok si è piovuto un pochetto, siamo scappati sotto non era destino che ne ho perso in acqua guarda, guarda che cosa mi ha fatto guarda, guarda, guarda qua guarda qua guarda qua mangiate qua mangio 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 bene, buono e nei buoni vinci di pianta andiamo al ocean ok ragazzi non c'ho forse non piangano, mio dio oh, ho fatto schifo oh stavo a te avendo, sto cambiando il bollaccio vabbè, non c'ho vabbè oh non c'era fa ragazza in vacanza avete uscito l'album di mostre oggi oh mio dio che le faccio tipo dopo un album reaction che le faccio sempre a sti cantanti che meritano che mi piacciono un sacco con la canzone poison mamma mia è una bomba non posso farla perchè sto in vacanza e mi sto mangiando le mente lunghe uffa comunque mostro complimenti taravagante e tutto complimenti sei un genio, sei un genio il mostro è tornato povero patto vissi sigla di animazione nostra se la conoscete la conoscete se no non la sponsorizzo musica 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 2 settembre altra colazione siamo alla sesta e niente domani vi battiamo ma che animale è? ma soprattutto quanto c***o è nudo ragazzi siamo andati in vicina di mattina quindi cioè l'acqua è fredda e tutto vabbè c'è guarda ci sta nessuno c'è proprio tutto tipo tutta vicina per noi che figata pazzesca e niente ultimo massaggio wow che buono e niente ecco la faccia ecco la rosca eeeh questa c***o questa c***a però no non ci vede mai perchè no adesso siamo a diretti e vada guys musica 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 Domenica Sì Vincià Wow I love you I love you Yeah, I love you Will you love me Cos I love, I love you